Nasce per riconoscere il grande lavoro che in questi ultimi due o tre anni i volontari di protezione civile hanno fatto per la nostra città e non solo, perché sono stati attivi non solo a Pesaro ma anche nei comuni intorno nei quali sono stati chiamati per prestare il loro aiuto e dare la loro collaborazione. È un gruppo di 150 persone che prestano il loro servizio gratuitamente, perché dedicano tempo, energia e tolgono spazio a quelle che sono la loro passione, a loro famiglie per dare una mano a chi ha bisogno. Purtroppo nell'ultimo periodo ci sono state situazioni che hanno richiesto interventi costanti da parte dei volontari di protezione civile e dedicargli una settimana ci sembrava il giusto riconoscimento. Saremo al Parco Miralfiori dal domenica 7 a domenica 14, ci saranno momenti di dibattito, di confronto, le scuole, una cerimonia inaugurale, poi chiuderemo con il pranzo per tutti i volontari. Deve essere l'educazione, noi quando andiamo nelle scuole vediamo questa mancanza o non conoscenza, perché ci vedono solo quando siamo in intervento, invece vogliamo far capire cosa siamo prima di arrivare all'intervento, come si costruisce la protezione civile, cosa deve fare il volontario per la protezione civile per arrivare a dare quel contributo che poi diamo alla gente quanto ha bisogno. In questa settimana ci sarà modo, oltre a far vedere il lavoro che è stato fatto, anche di presentarsi alla città e magari reclutare nuovi soggetti, soprattutto giovani, perché il segnale importante è quello di riuscire ad avere da parte dei giovani la sensibilità e la volontà di dare una mano a chi ha bisogno. Si svolgerà al mattino con le scuole, fino a mezzogiorno, il poveriggio con la popolazione che verrà, anche le scuole che tornano, non è nessun problema, e faremo anche un paio di convegne la sera dopo cena, però quello dobbiamo buttare giù, non lo sappiamo esattamente, anche fra di noi, perché dobbiamo fare anche un po' di formazione, approfittiamo dal momento che siamo lì.